Scatti fotografici per raccontare il lavoro delle volanti del web e di quei supereroi di cui molto spesso ci si dimentica perché operano in incognito, cercando di contrastare reati che fanno paura come la pedopornografia, l'abuso e l'adescamento online dei minori. Sono gli agenti della Polizia Postale, a loro è dedicata la mostra Supereroi proteggiamo i bambini insieme, ideata dalla Polizia Postale per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato che fa tappa nella BAT. Da domani infatti sarà ospitata Palazzo San Giorgio a Trani nell'ambito di una tre giorni organizzata dalla Questura di Andria in collaborazione con il Comune di Trani. Noi abbiamo degli eroi fatti in casa di cui spesso e volentieri ci si dimentica, spesso e volentieri non li si vede, sono quelli della Polizia Postale, come definiscono stesso loro le volanti del web, quelli che lavorano in incognito e che salvano tante persone, tanti ragazzi e soprattutto tanti bambini. Bisogna dare lustro a queste persone, bisogna, ma non per loro, non per gratificare il loro ego assolutamente, non per dire che la Polizia è brava, ma perché per dare ai giovani, per dare ai ragazzi qualche eroe diverso in cui credere, qualche uno che gioca nella squadra dei buoni. Questo è l'obiettivo, anche questo è l'obiettivo di questa mostra. Le tecnologie informatiche ci hanno dato tanto, viviamo una vita tecnologica, una vita digitale, però insieme alle cose positive ci sono anche dei lati negativi, ovvero ci sono dei criminali, delle organizzazioni criminali che sfruttano il web per commettere reati e questo colpisce tutte le fasce di età, dai minori con la pedopornografia, con l'adescamento, anche ai maggiorenni che sono vittime per esempio di altri reati come il phishing, il trading online, eccetera. Durante la tre giorni, spazio a dibattiti, incontri in piazza, arriverà il track della Polizia Postale per la campagna educativa è una vita itinerante, una vita da social, volta a sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado sui rischi e pericoli della rete. Le immagini in mostra rappresentano da una parte la fragilità delle vittime, dall'altra il sacrificio degli operatori che si occupano di monitoraggio del web, ha concluso il sindaco di Trania, Medeo Bottaro. C'è sicuramente una realtà anche virtuale, oltre a quella a cui siamo abituati, nella quale operano dei veri e propri mostri in maniera assolutamente indisturbata, per fortuna invece anche lì abbiamo le nostre volanti, le volanti del web, la polizia, in particolare la polizia postale, che fa un lavoro oscuro ma fondamentale, rispetto al quale è giusto che se ne parli, soprattutto se ne deve parlare per cercare di aiutare i nostri ragazzi ma anche noi stessi genitori a proteggersi, a proteggersi dal web, a proteggersi da questi mostri.